Finstral, porte, finestre e persiane, Ivo Fontana a Ponte nelle Alpi e Crea Resine Amel vi presentano questo programma. In collaborazione con Dolomitissime. Massimo, per questo intervento ci piacerebbe ragionare su un'ipotesi di schermature solari da poter movimentare per gestire il contributo solare all'interno dell'abitazione, per evitare il suo riscaldamento, per gestire anche delle situazioni di comfort. Cosa ci puoi proporre? La soluzione Finstral, in questo caso, è sicuramente una schermatura solare robusta, adatta a coprire qualsiasi superficie e larghezza, le più disparate. La soluzione appunto è il frangisole Finstral, che è composto da aletti in alluminio estruso, le alette sono regolabili, è motorizzata e è proprio l'ideale per modulare la luce in entrata, quindi per salamenti orientati lato sud-ovest, integrandosi ottimamente con qualsiasi facciata di edificio. Motorizzata appunto, regolabile, robusta, si possono fare veramente delle larghezze molto grandi. C'è questa quindi, diciamo così, a scomparsa, ok, quindi posso avere la soluzione, ho il seramento tutto aperto, poi nel momento in cui dovessi avere un carico solare fastidioso, oppure nella necessità di avere un po' più di penombra all'interno, posso pensare di farla scendere, quindi scende quanto voglio, ma poi questi sono, diciamo così, regolabili nella loro inclinazione, e quindi posso anche vedere comunque all'estero. È eccezionale, perché è proprio la soluzione che ti permette di, come dicevi appunto, facendola scendere e orientandola, mantenere un'ottima scrematura solare senza rinunciare alla luce interna dell'abitazione e permettendo anche un'ottima reazione, perché con l'aletta 45 gradi hai un'ottima reazione anche al seramento aperto quando decidi di tenerlo a parte di un seramento. A scomparsa è eccezionale anche l'integrazione con la muratura, perché Finstral propone un sistema di controtelaio integrato nella muratura, quindi dando un servizio completo fin dal grezzo, montando un controtelaio appunto monoblocco che fa inserire con dei cassonetti particolari completamente il frangisole. Una novità è anche la possibilità di abbinare a questi cassonetti degli areatori. Comunque adesso Massimo mi hai veramente curiosito, vorrei vederlo in azione. In questo caso lo aziono attraverso un telecomando che mi permette di orientare, di fare veramente quello che voglio del frangisole. In questo caso tu come vedi posso orientare la lamella, con un semplice tocco lo faccio scendere, lo fermi dove desideri. Questa è una soluzione pratica e anche direi molto bella, in più anche solida. Beh Massimo mi sembra una soluzione veramente versatile, interessante e sicuramente la proporremo nella nostra soluzione di progetto. Grazie a te Enrico per avermi dato la possibilità di spiegarti questo sistema oscurante di Finstral. Finstral, porte, finestre e persiane, Ivo Fontana a Ponte nelle Alpi e Crea Resine a Mel, vi hanno presentato questo programma. In collaborazione con Dolomitissime Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti